Eccoci qua cari amici, sempre dai parcheggi esterni, oggi 7 aprile 2018, fiera Camer, che devo ancora entrare, sono quasi le 12, il vecchio Marvin ha avvistato questa bellissima Lancia Beta Volume X che avevamo intravisto all'autogrill questa mattina e niente, questa volta il Marvin indisturbato la può filmare e mettere in sacoccia, niente, facciamo chiaramente sempre i complimenti al proprietario che possiede quest'auto qua. effettivamente, guardate qua, guardate qua che linea, eccezionale, ancora quelle auto che piacciono al Marvin, una linea raffinata, elegante, sportiva, eccezionale, e niente, insomma, la mettiamo qua da parte e niente, spero non abbia mare il possessore di quest'auto e se un giorno si vede la sua auto nel mio canale, se ci fossero problemi me lo dica che la levo, niente, noi siamo qua per valorizzare le auto storiche, ecco, eccola qua, ragazzi, niente, siamo qua. e mi piaceva farla vedere così nella sua originalità, ecco, non oscurare o metterci su adesivi sulle targhe, eccetera, eccetera, perché, dai, insomma, è un documentario questo, amatoriale, artigianale, alla Marvin, però, siamo qua per valorizzare, appunto, questa, questa bellissima Lancia Beta Volume X, che, tra l'altro, era una vita che io non le vedevo, forse l'ho vista alla fiera di Padova, ma, insomma, bisogna andare sempre lì per vedere qualche auto che non si vede più. ragazzi, con questo il vecchio Marvin vi saluta, ho vistato appena adesso una Giulietta, e andiamo subito a mettere da parte anche quel report. Ciao a tutti e a presto!